Benvenuti, benvenute a questa nuova puntata di Faccia a Faccia, nostro programma di approfondimento giornalistico. Ospite di questa puntata, e lo ringrazio ovviamente per aver accettato il nostro invito, è Tonino Bernabè, che è il presidente di Romagna Acqua e Società delle Fonti. E non a caso si chiama Acqua per la Romagna questa puntata. Allora Presidente, prima di parlare del presente e del futuro, parliamo un attimo del passato. Cioè di com'è andata l'annata 2017, quanta acqua avete raccolto, quanti soldi vi siete fatti pagare per le vostre forniture? Ma l'annata 2017 è stata un'annata complicata, l'abbiamo seguita sia noi sia appunto voi, cercando di capire quanta acqua c'era di Dracoli, quanta pioggia non veniva. Sì, perché è stata divisa in due fasi questo 2017 dal punto di vista... Sì, venivamo da annate che comunque dal punto di vista della pioggia non ci hanno regalato grossi quantitativi. Ricordo che la Romagna non è di per sé un territorio ricco di acqua, quindi come dire, sono le infrastrutture, la capacità di accumulo che hanno le nostre infrastrutture, sia le falde idriche, sia la diga di Dracoli, sia le altre fonti superficiali che ci permettono di garantire la sicurezza da approvvisionamento, quindi le interconnessioni di rete. Noi abbiamo avuto un'area di Dracoli un po' in sofferenza rispetto al dato storico perché abbiamo dato su tutto il 2017 46 milioni di metri cubi e la diga, quando è piena, ne contiene 33, perché sono 557 metri sul livello del mare. Quindi il dato storico di solito ci permetteva di produrre 52 milioni, 56, 57 milioni, quindi come dire un dato notevolmente inferiore. Poi possiamo anche considerare che il cambiamento climatico sta incidendo perché la frequenza delle siccità non si distanzia di anni ma ha una frequenza di ritorno molto più ravvicinata perché abbiamo avuto crisi idriche nel 2003, nel 2007, nel 2011, 2012, nel 2017, quindi come dire diventa un'abitudine ormai con cui dover far fronte. Ma complessivamente quanta acqua avete? Ecco abbiamo prodotto su base annua 115,43 milioni di metri cubi, negli anni passati ne produssevamo 110. Quindi di più? Sì, di più perché devo dire che sulla costa romagnola tra gli investimenti degli alberghi molti hanno fatto le spa e naturalmente il fatto che è stata un'estate molto calda, con vere e proprie ondate di carore, quindi come dire i consumi sono aumentati, nonostante le ordinanze dei sindaci. Quindi la richiesta aumenta, quindi dobbiamo far fronte con gli investimenti. È stato un anno complessivamente che ha permesso di avere un valore della produzione di 57 milioni e 298, un utile di oltre 4 milioni che è stato distribuito dividendo ai sindaci e ai soci di Romagna Acque per il 94%, un valore per azione di 5,40 euro, però ecco devo dire che gli investimenti in energia hanno permesso di ridurre i costi di produzione e anche l'efficientamento energetico ha influito perché quando lavoriamo di più sulle falde, quindi influiamo di più sui sollevamenti e sul trattamento per la potabilizzazione, abbiamo maggiori costi di gestione. Ogni 10 milioni di metri cubi d'acqua prodotta da falda sono 1 milione 8 in più negli anni passati di costo energetico, quindi riuscire ad intervenire sulla capacità produttiva per abbattere questi costi ha degli effetti positivi diciamo sulla tariffa e sul risultato di esercizio. Ecco, il fatto di avere un sistema di 640 chilometri di condotte basato su diverse fonti, perché oltre ai Dracoli abbiamo appunto i pozzi, Follice-Sena e Rimini, poi abbiamo le fonti superficiali, perché Rimini dipende dalla coenoide della Marecchia, del Conca, che è stata in siccità, ma avevamo comunque quelle falde che ci permettevano di produrre senza particolari rischi fino alla fine dell'anno. E poi a Reven avevamo, diciamo, il reno integrato dall'amone d'estate e naturalmente la risorsa del CER che trattiamo dal 2015. Se non l'avessimo avuta nel 2017 sicuramente saremmo... perché abbiamo un potenziale di produzione di 130 milioni di metri cubi grazie al CER, quindi questa flessibilità ci garantisce sicurezza e continuità del servizio senza particolari rischi. Quindi, come dire, anche se abbiamo queste alternanze rispetto alla condizione metoclimatica, avendo fonti diverse e avendo la condotta e l'infrastruttura riusciamo a gestire i rischi con flessibilità. Presidente, per quello che lei mi dice mi viene in me un pensiero. Coloro i quali ormai alcune decine di anni fa pensarono a questo grande progetto della diga di Ridracoli e dell'invaso di Ridracoli? Hanno visto lontano e hanno visto bene? Assolutamente, perché il consorzio tra i sindaci dei comuni romagnoli si costituì nel 1966. La diga si realizzò dopo il Vaiont a metà degli anni 70, ma avevano studiato 13 anni fra progetti, ha anche valutato i potenziali rischi. Quindi dal punto di vista ingegneristico e sismico è stato fatto un'infrastruttura importante che addirittura ha migliorato il contesto ambientale. Siamo in un parco nazionale, quello delle foreste casentinesi, in un'area protetta, fra la Romagna e la Toscana, che nel 2017 ha avuto anche riconoscimento del patrimonio UNESCO di Sassofrattino. E quindi ecco, noi beneficiamo e anche ereditiamo una responsabilità, perché la diga di Ridracoli e l'acquedotto della Romagna, la diga si è completata nell'82, l'infrastruttura invece dell'acquedotto della Romagna si è completato ed è entrato in produzione nell'87. Ecco, sono i beni di cui beneficiamo oggi e la responsabilità che ci è stata lasciata è quella di continuare su quel filone lì, insomma di avere visione sul futuro e non attendere. Quindi tutto quello che non viene fatto in termini di investimenti, noi rischiamo di pagarlo in termini di sicurezza. Ripeto, noi non è che paghiamo l'acqua, che è un bene essenziale, noi paghiamo il servizio idrico, quindi l'infrastrutturazione, averlo e non averla o mantenere o non mantenere le reti significa disperdere acqua e significerebbe non riuscire a garantire continuità del servizio. Presidente, è meglio non pensare a cosa sarebbe oggi la Romagna dal punto di vista idrico se non ci fossero i dracoli? Saremmo pieni di problemi fino a sopra il campbellino, sarebbe pieno di problemi? No, la Romagna perché attorno all'acqua crescono le città, crescono le economie, cresce la produzione erigua per l'agricoltura e per l'industria, quindi senza questo bene essenziale non c'è sviluppo. Noi non ci pensiamo perché, come dire, diamo per scontato una sicurezza che abbiamo conquistato con fatica ma questo è un territorio laborioso e produttivo grazie al fatto che ci sono dei servizi che funzionano e quello idrico è tra questi. Anche un territorio lungimirante che guarda avanti non solo all'oggi ma anche al domani e addirittura al dopodomani. Assolutamente sì. Senta Presidente, lei ne ha già accennato ma vorrei che fosse ancora più analitico. Quali sono le vostre fonti di approvvigionamento? Ripetiamole correttamente. Sì, dunque, Ridracoli che garantisce il 50% della produzione e viene distribuito equamente sui tre territori provinciali. Poi abbiamo naturalmente anche i pozzi di Forlì e Cesena che integrano il fabbisogno. Dalle falde acquifere, appunto, sollevano il costo in più. L'area riminese, sia la parte sud sia la parte nord, che dipendono dalla conoide del Marecchia e del Conca, quindi, come dire, una produzione prevalentemente da falda per i due terzi. Poi abbiamo il Ravennate che dipende dal Reno ed è integrato dal Lamone per i bisogni estivi. E il CER dal 2015, attraverso il vettoriamento appunto da Po, l'acqua viene presa da Bondeno, nel Ferrarese, arriva da Ponte Lago Scuro, lì c'è il cavo napoleonico che fa una sorta di fitodepurazione e poi ci arriva attraverso, diciamo, il canale, viene vettoriato attraverso le condotte che abbiamo realizzato per il nuovo potabilizzatore della Standiana sul Dismano, nella zona di Fossogliaia, vicino a Mirabilandia, dove c'è un trattamento a membrana adulta filtrazione. Ed è il più grande impianto europeo realizzato con questa tecnologia. Ecco, le membrane sono dei polimeri che hanno un diametro di 0,04 micron e, diciamo, trattengono tutte le impurità, quindi le spore e, come dire, i solidi sospesi. L'unica cosa che passa sono le sostanze disciolte che poi hanno un trattamento successivo con i carboni attivi. Però è un'acqua, diciamo, che è analoga a quella di Ridracoli. L'unico svantaggio che c'è, che ci hanno segnalato, in particolare nelle realtà turistiche, penso ad esempio a un comune come Cervia, che dipendeva totalmente da Ridracoli, oggi viene servito dal CER, anche se all'inizio dell'anno, del 2018, avendo la diga piena, l'abbiamo riservito da Ridracoli. Quando la diga è piena all'inizio dell'anno, tendiamo ad utilizzare quella. L'unico svantaggio che c'è, essendo una fonte superficiale d'estate, è un po' più calda. Però, ecco, questo non influisce sulla potabilità, sulla qualità dell'acqua. Anche il CER, quindi, risulta essere un'opera straordinaria per l'approvvigionamento idrico. Era nata per gli agricoltori, in realtà serve anche per... Assolutamente. Poi, fra l'altro, ecco, nonostante che anche il Po abbia risentito nel 2017 della siccità, infatti, ecco, dove nasce il Po sul Monviso, c'erano degli articoli, in particolare sulla stampa, che denunciavano la situazione siccitosa. Noi abbiamo il CER, dove c'è il cavo napoleonico, che deve tenere l'acqua a 3,50 metri sopra il livello del mare, perché, diciamo, non ci può essere ingressione del cuneo salino. Esatto. Per cui, come dire, il CER ha garantito la sicurezza nell'approvvigionamento idrico, in particolare per l'agricoltura, che è, diciamo, quella che ha maggior bisogno idrico per produrre cibo, per la nostra alimentazione. In più, ecco, noi abbiamo cercato di dare una mano nelle aree appenniniche, perché nell'impianto di Capaccio avevamo gli agricoltori che venivano ad approvvigionarsene. Certo. Quindi, ecco, è ritornata l'attenzione, nonostante che Romagna Acqua è dal 2013, che ha lanciato questo dibattito, non per fare dell'allarmismo, ma per essere realisti su quello che potrebbe succedere. Quindi, visto che complessivamente abbiamo bisogno di tutti di più acqua, e, ripeto, l'uso domestico è quello che ha la fetta più piccola nella torta, l'uso industriale agricolo sono quelli più grossi. Se non abbiamo, assieme alla Regione, una visione integrata dei fabbisogni, chiaramente rischiamo di fare pianificazioni, come dire, specifiche, ma non integrate, noi abbiamo bisogno di costruire una visione integrata, fare una programmazione unitaria. Poi ci si sbilancia da una parte. Ecco, quindi l'integrazione col CER sta dando buoni risultati per questo. Certo, certo, certo. E poi c'è anche un altro vostro servizio, che è quello che tutte queste varie fonti sono collegate tra di loro, quindi potete spostare, io uso questo termine un po' in proprio, l'acqua dove serve, in sostanza. Sì, 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 è quella famosa flessibilità del sistema di cui parlavamo, perché a seconda di quanta acqua abbiamo di Dracoli, possiamo spingere di più o sulle fonti territoriali, quindi sui pozzi, oppure sulle fonti superficiali, in particolare sul CER. Però ecco, questo ci ha sollevato dalla riflessione sugli accumuli, perché noi abbiamo, ad esempio, nell'Appennino Fordivesi in particolare, sul Sabio da una parte, ma nella parte, diciamo, penso al Tramazzo, penso al Montone, aree che non sono servite da di Dracoli. La stessa Santa Sofia non beve tutto di Dracoli, beve... Oppure essendo lì vicina. Appunto. Però ecco, chi non è servibile da di Dracoli, penso ad esempio alla problematica che abbiamo registrato nel 2017 a Modigliana, penso a Portico San Benedetto, che abbiamo servito con le autobotti, penso al Montone, ecco lì dobbiamo realizzare degli accumuli. Certo. Degli accumuli, quindi non una nuova grande diga come è stato di Dracoli, ma... E qui entriamo, Presidente, nella parte degli investimenti presenti e anche futuri. Sì, cioè la riflessione che abbiamo iniziato con l'Università di Bologna è di questo tipo. Noi registravamo due riempimenti di di Dracoli, che erano autunnale e primaverile. Ecco, il riempimento si concentra all'inizio dell'anno, quindi su base annua, non essendosi una distribuzione normale rispetto ai cambi di stagione delle piogge, abbiamo meno acqua su base annua, nonostante che magari la gente dice, sì ma la diga è piena, ma uno il controllo deve fare su base annua. Certo. Quindi, come dire, ci siamo posti il tema per non sollevare, sfruttare troppo le falde, perché il piano di tutela delle acque della regione ci dice che dobbiamo ridurre i prelievi da falda. Anche per la via della subsidenza. Ecco perché l'infrastruttura del potabilizzatore della Standiana, che lavora su Po, attraverso il canale Emiliano Romagnolo, ha permesso di ridurre i prelievi da falda e dobbiamo insistere andando in quella direzione. Sì, il prelievo da falda è l'ultima cosa che fa, che prima c'è i dracoli. Sì, anche se, ripeto, l'area riminese ha una prevalenza di produzione per i due terzi. Ma per il resto si tende a lasciare il posto tranquillo. Esattamente, esattamente. Quindi ecco, dobbiamo aumentare gli accumuli, costruendo delle infrastrutture. Quindi facendo piccoli laghetti qua e là. Sì, diciamo, piccoli invasi nelle aree montane che ci permettano, collegabili all'infrastruttura esistente dell'acquedotto della Romagna, di avere delle scorte che quindi garantiscono la sicurezza a situazioni come quella di Modigliana che vedendo ridurre la portata del fiume ha, come dire, avuto delle sofferenze nel 2017. Infatti quei comuni ci hanno detto noi eravamo abituati con le piogge primaverie a stare tranquilli per tutta l'estate e non pensavamo di riuscire a vedere messa in discussione la nostra sicurezza. Quindi per la prima volta nel 2017 i comuni della Romagna forlivese hanno aperto questa riflessione con Romagna Acqua. Quindi sia la loro sicurezza sia il fatto che sono aree che hanno anche produzione agricole penso ad esempio il kiwi nel caso di Modigliana. A proposito, la sostituzione abbiamo smesso buona parte dei peschetti. Abbiamo aumentato la produzione che ha bisogno appunto di più acqua. Solo che il kiwi ha bisogno enormemente più delle pesche di acqua. Esatto. Ecco perché questa visione integrata. Dopodiché naturalmente sia anche per la costa romagnola dobbiamo garantire più sicurezza quindi avere più accumulo distribuito si garantisce di avere più disponibilità idrica. Presidente, visto che non si può fare una diga di ridracoli 2 sia per problemi di costi ma anche perché forse non c'è sulle nostre montagne la possibilità di realizzare una seconda diga tanti piccoli accumuli. Sì, noi complessivamente avremo bisogno di altri 20 milioni di metri cubi in più distribuiti sul territorio. Ad esempio, noi stiamo lavorando per fare un accordo con il Consorzio di Bonifica delle Marche quindi un rapporto fra la regione Emilia-Romagna e le Marche per andare sul Foglia. Nell'assemblea dei soci del 14 giugno quindi fra qualche giorno avremo l'accordo che permette l'attivazione diciamo di questo percorso con il Consorzio di Bonifica. Andremo a realizzare una condotta di collegamento che permetterà, visto che è utilizzata in minima parte quell'acqua per l'agricoltura 1 milione e mezzo, 2 milioni di metri cubi su un potenziale di 20 milioni su base annua il fatto di poterla sfruttare da una parte nel Pesarese e questo è un problema che ha il Consorzio di Bonifica con la regione e il fatto di poter avere un collegamento con la diga del Conca che è, diciamo, la si vede dall'A14 l'invaso che collega il parco di Montalbano con l'autodono di Santa Monica di Misano garantisce a quel potabilizzatore di lavorare tutto l'anno e ridurre i prelievi da Pozzo ed avere un'acqua che nasce appunto da un'area naturale che può approvvigionare la parte sud del Riminese. Ecco, poi altri investimenti importanti sicuramente il collegamento fra l'impianto del potabilizzatore della Standiana con Monte Casale che è il baricentro dell'acquedotto della Romagna Monte Casale si trova esattamente siamo a Bertinoro quindi lì abbiamo le vasche di carico che hanno tutta l'acqua che è trattata a Capaccio che quindi viene dalla diga di Ridracoli che viene poi distribuita perché è il baricentro, il cuore dell'acquedotto della Romagna avendo questo collegamento abbiamo un'alternativa alla condotta principale che da Ridracoli arriva a Monte Casale quindi se io devo fare una manutenzione soprattutto d'estate sulla condotta principale ho un'alternativa quindi non rischio di pregiudicare l'approvvigionamento quindi diventa quel collegamento lì un'infrastruttura di sistema. Faccio notare ai nostri ascoltatori che tutte queste opere a parte il fatto che sono estremamente costose non le vediamo sono in gran parte sottoterra però abbiamo sentito centinaia e centinaia di chilometri di tubature quindi un investimento non sono opere che si fanno in due giorni perché da quando le pensi, le progetti, le realizzi fai le gare ci vogliono quei 15 anni più o meno assieme alle autorizzazioni per cui i nostri enti soci ci devono dare una mano. Altre due opere importanti per la messa in sicurezza dell'approvvigionamento è il raddoppio della condotta Russi-Lugo-Cotignola per la bassa Romagna che metterà in sicurezza l'approvvigionamento e l'ultima opera è sicuramente il potenziamento della rete costiera che da Monte Casale passando da Forlimpopoli, Cesena arrivando fino a Torrepedera di Rimini metterà in sicurezza anche quella zona. Sì, perché la parte costiera non è in acciaio come la condotta principale ma in ghisa per cui il fatto di mantenere le reti può influire sia sulla qualità dell'acqua sia il fatto di evitare le rotture perché tu quando hai una condotta che ha 30-40 anni se non la manutieni hai potenzialmente dei rischi. A proposito Presidente spesso i nostri colleghi a livello nazionale fanno notare come in Italia si sperica tantissima acqua ci sono dei posti dove più quella che esce di quella che arriva ai rubinetti Assolutamente Invece noi qui in Romagna come siamo messi? Allora, io do il dato che è il dato poi di ERA perché oltre alle nostre condotte di adduzione ci sono le condotte urbane di distribuzione che sono quelle che hanno un impatto maggiore in termini di perdite il dato che viene dato dal gestore del servizio di cui ho integrato punto da ERA nei suoi bilanci sociali è di una perdita del 19% che è anche fisiologica se vogliamo Ed è bassa Ed è bassa perché a livello nazionale siamo attorno al 37-40% In alcuni punti oltre il 50% Sì, perché uno dei problemi che abbiamo in Italia è che ci sono molte piccole gestioni diseconomiche in economia molte sono gestite direttamente dai comuni quindi quando non hai una massa critica in termini di dimensioni territoriali o industriali non ci sono i soldi non hai capacità di investimento ricordo che oggi con l'autorità di regolazione che deve controllare che le società che si occupano di idrico spendano bene le loro risorse e non facciano pagare le loro inefficienze sulla tariffa all'utente finale fare o non fare un investimento nei tempi significa non incassare i soldi che una società deve anticipare Romagnacque non va in banca perché i soldi li ha però noi iniziamo a rincassare quello che investiamo nelle infrastrutture o nelle manutenzioni delle reti due anni dopo la messa in esercizio degli impianti quindi se io non faccio gli investimenti nei tempi che mi sono dato e lo stesso il gestore per la parte diciamo reti, fognature perché ricordo se non ci fosse questa solidarietà tra Romagnacque ed Era non avremmo realizzato la salvaguarda della balneazione nell'Adriatico non avremmo fatto la depurazione sul Savio quindi come dire non riusciremo a garantire il fatto che l'Emilia Romagna non paghe infrazioni europee questo è molto importante a dimostrare sono due o tre regioni su venti dimostrare l'efficienza di tutto di tutto il macchinario diciamo che ruota attorno alla distribuzione dell'acqua il fatto di non investire sotto terra significa non avere la garanzia soprattutto piovendo meno e avendo meno acqua distribuita rischiamo come dire di disperdere nelle reti di acqua potabilizzata potabilizzata questo sarebbe un disastro voi avete un sito voi avete un sito dove praticamente in tempo reale si può osservare com'è la situazione allora in questi giorni la situazione è questa praticamente come vedete la diga anzi l'invaso è pieno non siamo ancora alla tracimazione ma siamo lì se poi guardiamo voi date anche i dati degli anni del presente ma anche degli anni passati se guardiamo il 2018 con il 2017 qui c'è il grafico e vedete subito come la nostra situazione cioè il 2018 sia nettamente migliore di quella del 2017 vedete anche come la curva inizia a scendere guardate il 2017 capite perché stiamo contro l'estate cresce il consumo arrivano i turisti e la diga regala acqua a più non posso e non solo la diga senta Presidente vista la situazione attuale grazie al vostro bel sito il futuro dell'azienda il futuro della sua azienda da qui ai prossimi 100 anni come la vede? allora noi diciamo io la considero la mia azienda ma in quanto cittadino romagnolo perché questa è l'azienda dei romagnoli gestita e amministrata tramite i sindaci che ne sono i proprietari quindi io questa cosa ce l'ho ben chiara io difendo l'appartenenza pubblica di Romagna Acque perché appunto è l'azienda della Romagna la prima esperienza di area vasta ci sarebbe chi la vorrebbe privatizzare nonostante che ci siano leggi difendo anche il fatto che sia un'impresa perché la dimensione di impresa oltre alla dimensione territoriale sono quelle che fanno la differenza quindi sicuramente fare gli investimenti nell'infrastruttura che dicevamo prima rispetto al piano degli investimenti altra cosa anche la decisione che hanno preso i sindaci di acquisire gli asset idrici della Romagna noi abbiamo a Rimini Amiresis a Cesena Unicareti a Ravenna Area Ravenna in Ravenna Olding quindi l'acqua è dei romagnoli non è di una società pinco pallino magari privata è dei romagnoli dentro il progetto di razionalizzazione imposto dal decreto Madia dalla legge Madia noi razionalizzeremo queste società partecipate passando Romagna Acque e tutti questi asset patrimoniali idrici quindi la dimensione patrimoniale avrà assolutamente importanza ecco la cosa di cui mi preoccupo io visto che ad ogni cambio di maggioranza ci sono spesso ripartenze quindi si rimettono spesso in discussione scelte fatte negli anni precedenti è legittimo questo ci mancherebbe però avere rischiare di avere un approccio ideologico come c'è stato in passato non solamente da parte di un governo di un tipo piuttosto che di un governo dell'altro siamo passati da una visione pubblicistica a una visione privatistica siamo ritornati ad una visione pubblicista ecco la realtà sta nel mezzo perché come dire l'acqua non può essere gratis perché ci sono da fare gli investimenti no bisogna che le aziende funzionino siano gestite in maniera efficiente che la politica le controlli tramite le autoriti che sono state fatte certo ARERA l'autorità di regolazione nazionale che era l'AXI quindi l'autorità che gestisce i rifiuti e la parte ambientale il gas l'energia elettrica ed idrico e a livello regionale ATERSIR quindi ci sono delle autorità che regolamentano e controllano diciamo per i sindaci e garantiscono l'utente finale che vengono fatte delle tariffe giuste soprattutto che vengono fatti spesi gli investimenti farli o non farli impatta sulla tariffa ma mette in sicurezza il futuro tutto il sistema e il futuro perché ripeto se non si investe per manutenere le infrastrutture esistenti in Italia ci sono condotte che hanno anche 60 anni e se non si fanno infrastrutture per gestire il cambiamento climatico e oggi col superamento delle province è importante anche la manutenzione del territorio perché quando non piove ci sono mesi siccitosi e poi cadono le bombe d'acqua c'è il dissesto idrogevoso quindi si vogliono strumenti nuovi per non spendere in emergenza ma programmare la programmazione è quella che fa la differenza e credo che un po' tutte le forze politiche abbiano attenzione a questo quindi mi auguro che la nuova esperienza di governo appena partita abbia modo di confrontarsi con le esperienze migliori in Italia e sicuramente quella romagnola è tra questi e tra questi bene Presidente siamo arrivati al termine di questa chiacchierata la ringrazio per le tante cose interessanti che ha messo a disposizione ringrazio a voi la rete e soprattutto i telespettatori i nostri telespettatori brindiamo idealmente a quest'estate 2018 con l'acqua che voi ci fornite e soprattutto buon lavoro da qui al prossimo futuro grazie e grazie a tutti voi che ci avete ascoltato grazie a tutti